Allora siamo qui a Patrica, nel cuore della ciociaria, questa fraschetta patricana e abbiamo tutti gli amici qui che oggi facciamo un applauso a tutti voi che ci vedono per l'isaggio. E a tutti voi dividiamo questa società di magnazioni. Allora mi raccomando tutti insieme. Patrica, nel cuore passiamo noi, si trova la finestra è una bella, c'è due ragazzi bassi con il fenello e le ragazze vanno innamorati e le ragazze vanno innamorati. Ma che ci creda, ma che ci è morta, se lo stavino ci ha messo l'acqua, e noi è lì, e noi è il campo, ci ha messo l'acqua in un vero ragazze vanno innamorati. Ma qui andiamo sempre tutti d'accordo, eh? Allora qui l'hoste si chiama Simone, altre chiamiamo tutti Simone, pronto? è uno, due, tre, si vuole! Tu e fa la volta, tu e fa la bene, io però anche la cazera bene. Da te, da te! Io vorrei dedicare questa strofetta a tutte le donne in sala, solo le donne. Ah, un poesiano molto gentile e romantico. Facciamo un applauso a questa professione di siero. Le donne specialmente non bevano nessuna ma quando c'è il cemento non te fanno vergogna se scuolano i litri, gli piaschi e gli boccioni e tanti due fregnoni se lo fanno pagare la tua città. La cazera bene mai mangio e la cazera bene più e più ma c'è il bacio e la cazera bene e tanti due fregnoni se lo fanno pagare la tua città. La cazera bene mai mangio e tanti due fregnoni se lo fanno pagare la tua città. e tanti due fregnoni se lo fanno pagare e fa la corta e fa la brana e tanti due fregnoni se lo fanno pagare la tua città. La cazera bene, la cazera bene, la cazera bene. Allora, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito dal web dalla Fraschetta Patrickana qui nel cuore della sociaria da Patrica. Un applauso! Grazie!